Ciao a tutti amici del canale, stiamo facendo una pista ciclabile, oggi c'è un po' di vento come potete vedere, attraverseremo il parco di Stupinigi, molto bello e oggi ci sono anche delle novità, adesso vi farò vedere che cosa ho visto. Qua c'è l'ingresso e vedete cosa c'è scritto. Attenzione, visto cinghiale con i più piccoli, sono passato l'altro giorno, non so se magari intendevano quello. Un saluto a tutti e buona visione. Grazie. 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 Abbiamo fatto una sosta, vediamo gli amici del motocross cosa facciamo oggi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ci prendiamo al giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.